La serata dei Superbrand Awards è una serata dedicata al tema dei Superbrands e cioè quei marchi che hanno capacità distintive per essere riconosciuti come super dai clienti e dai consumatori. Sappiamo che i poteri di una supermarca sono un po' come i poteri di un supereroe e quindi da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità. Quindi ai Superbrands è chiesto di essere sempre capaci di essere in sintonia con i cuori e con i sogni delle persone essendo trasparenti e fedeli alle loro promesse di marca e riuscendo a fare bene le cose che sanno fare bene. Questo vuol dire essere Superbrands. Per Disney essere un Superbrand è un riconoscimento importante è il coronamento di quelli che sono i nostri valori essere sempre vicino al consumatore e dare al consumatore quello che vuole. Disney ha il valore dello storytelling, della narrazione quindi storie senza tempo per i nostri consumatori. Il consumatore per noi è sempre al centro di quello che facciamo quindi se questo è un riconoscimento del consumatore siamo molto felici. Significa un passo importante nella costruzione della nostra reputazione di marca. Siamo nati solo sette anni fa essere riconosciuti nel gotta dei Superbrands è una grandissima soddisfazione sicuramente. Volevamo essere diversi, volevamo essere innovativi volevamo essere distintivi sembra che il mercato ce lo stia riconoscendo e la serata di questa sera lo sta dimostrando. Investiamo molto, è una parte importante del nostro budget è un asset fondamentale per costruire una reputazione di marca e una relazione fondamentale con il target potenziale e con il mercato. Per noi è molto importante come sentirete essere un Superbrand presente in Italia da più di 50 anni con dei numeri veramente super. Parliamo di un miliardo di fette all'anno consumate dagli italiani presente in circa il 70% delle famiglie italiane. Per noi è importante essere al passo seguire quelle che sono le nuove tendenze del mercato e spesso anticiparle. Siamo vicini ai nostri consumatori recentemente con delle innovazioni importanti abbiamo aperto dando la possibilità anche alle persone intoleranti al lattos di potersi godere un toast in piena tranquillità cosa che prima non potevano fare e recentemente, proprio negli ultimi mesi abbiamo lanciato un nuovo prodotto sottilette burger con cheddar portando a casa uno dei trend più innovativi dell'autobomb, quello dello street food portando qualità e servizio appunto ai nostri consumatori. Essere considerato un Superbrand significa per noi che l'amore è contagioso perché credo che ognuna delle aziende qui presenti questa sera per ognuna di noi il prodotto finale che vendiamo sia semplicemente l'ultimo anello di una catena dove responsabilità sociale responsabilità economica responsabilità ambientale sono le cose più importanti. Sicuramente è una sfida diciamo così almeno noi la riteniamo una sfida è essere impegnati nel capire come aiutare la gente sembra un po' impegnativo diciamo come affermazione però è questa proprio la sfida capire come nel proprio lavoro riuscire attraverso la forza di un brand, di un Superbrand a migliorare la vita della gente. Sicuramente gli ingredienti che hanno contribuito al riconoscimento di Superbrand per Brembo sono sicuramente una grossa passione da parte dei nostri interlocutori nel mondo soprattutto nel mondo delle auto nel mondo delle moto soprattutto nel mondo delle competizioni Brembo è riconosciuto come un'azienda leader. L'altro elemento che ci porta a essere un Superbrand è l'innovazione l'innovazione continua. Per Zucchetti essere Superbrand significa realizzare prodotti software innovativi di qualità e affidabili che trasmettano ai nostri clienti la possibilità di migliorare i loro processi gestionali e di migliorare il loro business una caratteristica delle persone che lavorano in Zucchetti è quella di lavorare con passione molti di noi si sentono super ma sentirselo dire da un super come Superbrand ha un sapore tutto particolare e di migliorare Grazie a tutti.